Anno della riconciliazione. Cosa significa questa parola, riconciliazione? Tante volte ci pensiamo e ci troviamo in imbarazzo perché pensiamo a quei casi irrisolti dove non andiamo tanto d'accordo con qualcuno. Ci abbiamo provato tante volte ma poi diciamo ma tanto non cambia. E riconciliazione c'è una parola per descriverla in greco, proprio il greco della Bibbia, che è la parola catalasso che appunto significa cambiare. Cambiare sostanza, cambiare per collegarsi, rilegare assieme di nuovo. Perché due cose si ricolleghino assieme c'è bisogno che si cambi. Per cambiare ci sono tanti modi, soprattutto è guardarsi dentro e cercare di trovare dentro se stesso qual è quella cosa che ci fa soffrire, che ci fa pensare che le cose non cambino e provare a cambiare magari quel pensiero nostro su noi stessi e sugli altri. Riconciliazione significa anche ristabilire. C'è un'altra parola per descrivere riconciliazione in greco apocadastasis. Significa appunto rimettere assieme, ristabilire, ristabilire la propria salute anche, ristabilire la condizione originaria di equilibrio. E qui siamo proprio di fronte a un ospedale e a volte le persone, anche le più orgogliose, piene di sé, cercano di affrontare la vita con la loro forza. Poi quando vieni in un ospedale ti rendi conto del tuo proprio limite. E allora per ritrovare il tuo equilibrio hai bisogno di riconciliarti con te stesso, con il tuo corpo che si è ammalato. E se nel fare questo incontri qualcuno che si presenta con un uccellino magari qua sul petto, capisci che non è un infermiere, non è un medico perché ha un po' di tempo per stare con te, per scambiare due parole, per aiutarti a mangiare, per imboccarti, per fare un palloncino e sorridere, per renderti leggeri quei minuti, quelle ore, quei giorni che devi stare lì all'ospedale. Sto parlando dei canarini in corsia, di questa bellissima esperienza che possono fare tutti i ragazzi dai 18 ai 35 anni. Credo che siano un input importante perché diverse persone che sono qui all'ospedale possano trovare un motivo in più per ristabilirsi veramente, per salvare qualcosa dentro, che non è solo la malattia ma è il proprio stato d'animo, la propria condizione mentale, il proprio ritrovarsi e quindi riconciliarsi con se stessi e poi dopo con gli altri.